Pausa natalizie di fine d'anno per San Cataldese e Nissa. Ieri Verde Amaranto hanno pareggiato a Paternò 0-0 nell'ultimo impegno del 2022, chiudendo il girone d'andata a quota 19. Se finisse oggi il campionato la San Cataldese sarebbe salva e con pieno merito, ma ci sono ancora altre 17 partite all'orizzonte e ci sarà da faticare non poco per raggiungere l'obiettivo della permanenza nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Il commento di Piero Infantino dopo il match allo stadio Falcone-Borsellino di Paternò. Secondo me questa è forse una delle più brutte partite che abbiamo fatto noi quest'anno, però la scusante può essere il campo, ci sono tanti giocatori che due mesi che tra di noi gli sto stressando, fisicamente siamo arrivati veramente al limite, solo la testa, la voglia di non soccompere ci ha aiutato a finire la partita. Siamo stati fortunati che ancora una volta Dolenti ci ha parato un rigore e noi abbiamo avuto delle opportunità per segnare su calci piazzati o su traversoni che non siamo stati bravi a posizionarci nell'area avversaria. Ci sono tanti giocatori che veramente in questa partita sono arrivati al minimo delle energie, soprattutto domenica abbiamo fatto una partita molto stressante contro i Locri, oggi pensavamo e forse abbiamo sbagliato di fare nostra la partita facendo il minimo e in questo campionato il minimo non basta, però abbiamo sbagliato tanti passaggi, non abbiamo mai giocato, non abbiamo mai fatto il minimo di quello che proviamo, però questo è una... gli scuso perché so che non volevano perdere, so che volevano fare quello che io gli avevo detto ma non sono riusciti e adesso ci fermiamo sicuramente questi giorni ci serve per ricaricare le energie mentali e fisiche per prepararci per giorno 8 che abbiamo un'altra partita fuori casa con il Sant'Agata che è un avversario difficile. L'8 gennaio la San Cataldese tornerà in campo a Sant'Agata. La prima parte della stagione si è conclusa senza sorpresa in vetta con il Catania che negli ultimi 90 minuti è tornato alla vittoria piegando la resistenza del Trapani nonostante lo svantaggio iniziale. Gli etnei campioni d'inverno con 10 lunghezze di vantaggio sull'Ocri e la Mezzia punteranno a conquistare al più presto i punti della matematica promozione in Serie C. Previsto pure per l'8 gennaio il ritorno in campo delle squadre di eccellenza. La Nisse ospiterà il Casteldaccia al Tomaselli. I biancoscudati a metà classifica sperano di risalire la china in un campionato che annoverà diverse pretendenti alla vittoria finale. Su tutte Acragas ed Enna.